Italien, Niveau débutant 4 S'il vous plaît ne pas oublier de vous abonner e aimer la vidéo. Si prega di non dimenticare di iscriversi e come il video. Notre professeur conduit les élèves au jardin. Il nostro insegnante guida gli studenti nel giardino. Il nostro insegnante guida gli studenti nel giardino. Vous devez réduire votre vitesse ici. Devi ridurre la velocità qui. Devi ridurre la velocità qui. Monsieur Smith insegne la letteratura. M.R. Smith insegna letteratura. M.R. Smith insegna letteratura. José porta due sacs a l'école chaque mattina. Ogni mattina José porta due borse a scuola. Ogni mattina José porta due borse a scuola. L'enfant può compter jusqu'à 10. Il bambino può contare fino a 10. Il bambino può contare fino a 10. Il bambino persegliano. Il bambino può contare fino a 10. Il dottore examina i pazienti. Je deteste l'eau froide. Odio l'acqua fredda. Odio l'acqua fredda. Les étudiants apprennent de nouveaux mots à l'école tous les jours. Gli studenti apprennent de nouveaux mots à l'école tous les jours. Gli studenti apprennent de nouveaux mots à l'école tous les jours. Nous voulons commander trois pizzas. Vogliamo ordiner trois pizzas. Je ne serre pas la main des étrangers. Non scuoto le mani degli stranieri. Non scuoto le mani degli stranieri. Nous n'avons rien accompli. Non abbiamo raggiunto nulla. Non abbiamo raggiunto nulla. Les chats attrape les souris. I gatti catturano i topi. I gatti catturano i topi. Nous couvrons le balcon avec une tente quand il pleut. Je pars demain à 8 heures. Parto domani alle otto. Parto domani alle otto. Selon les religions, Dieu a créé l'univers. Secondo les religions, Dieu a créé l'universo. Secondo les religions, Dieu a créé l'universo. On attend de la neige aujourd'hui. Ci aspettiamo neve oggi. Ci aspettiamo neve oggi. Ma mère prête toujours de l'argent à ma tante. Mia madre presta sempre dei soldi a mia zia. Nous possédons une maison et deux voitures. Possediamo una casa e due macchine. Je refuse tout type d'intimidation. Rifiuto ogni tipo di bullismo. Rifiuto ogni tipo di bullismo. Io condivido il mio pasto con mio fratello. Rifiuto il mio pasto con mio fratello. Vous devez testé une voiture avant de l'acheter. Devi testare una macchina prima di acquistarla. Devi testare una macchina prima di acquistarla. S'il vous plaît, changez di sujet. Per favore, cambia argomento. Per favore, cambia argomento. Le piedone attraversano la strada al semáforo verde. I pedoni attraversano la strada al semáforo verde. Nous vivons de bonnes choses pendant les vacances. Sperimentiamo cose buone durante le vacanze. Sperimentiamo cose buone durante le vacanze. J'entends quelques pas. Sento alcuni passi. Sento alcuni passi. Nous passons devant la banque tous les matins. Passiamo davanti alla banca tous les matins. Passiamo davanti alla banca tous les matins. Descasse hors tir des heures. I cacciatori sparano cervi. I cacciatori sparano cervi. Tu dois admettre ta faute. Devi ammettere la tua colpa. Devi ammettere la tua colpa. N'oubliez pas de charger votre téléphone portable. Non dimenticare di caricare il tuo cellulare. Non dimenticare di caricare il tuo cellulare. Les bébés pleurent quand ils ont faim. I bambini piangono quando hanno fame. I bambini piangono quando hanno fame. L'ensegnante explica la soluzione agli studenti. L'insegnante spiega la soluzione agli studenti. L'insegnante spiega la soluzione agli studenti. J'aide ma mère. Aiuto mia madre. Aiuto mia madre. Les enfants mentent parfois. I bambini a volte mentono. I bambini a volte mentono. Je paye par carte de crédit. Io pago con carte de crédit. Io pago con carte de crédit. Les tempêtes affectent nos plans. Le tempeste influenzano i nostri piani. Le tempeste influenzano i nostri piani. Un coup de pomme. Tagliamo le mele. Tagliamo le mele. Les enfants se cachent derrière un arbre. I bambini si nascondono dietro un albero. I bambini si nascondono dietro un albero. J'aime ton chapeau. Mi piace il tuo cappello. Mi piace il tuo cappello. Nous liberons le chien quand il a faim. La mère crie après son fils quand elle est en colère. La madre grida à son fils quand elle est arrabbiata. La madre grida à son fils quand elle est arrabbiata. Je ne peux pas me payer cette voiture. Non posso permettermi quella macchina. Non posso permettermi quella macchina. Choisissez une cravate. Scegli una cravatta. La tempête en dommage des maisons. La tempesta danneggia le case. La tempesta danneggia le case. Ne frappe pas les chevaux. Non colpire i cavalli. Non colpire i cavalli. Nous cueillons des fleurs au parc. Raccogliamo fiori nel parc. Les élèves montrent leurs devoirs à l'enseignant. Gli studenti mostrano leurs devoirs à l'enseignante. Gli studenti mostrano leurs devoirs à l'enseignante. Mère touche son bébé. La mamma tocca il suo bambino. La mamma tocca il suo bambino. Les garçons sont bien d'accord avec les autres garçons. I ragazzi sono d'accordo con gli altri ragazzi. I ragazzi sono d'accordo con gli altri ragazzi. Les femmes dansent mieux. Les donne ballano meglio. Les donne ballano meglio. Les étudiants font face a des difficultés. Gli studenti affrontano alcune difficoltà. Gli studenti affrontano alcune difficoltà. Gli studenti affrontano alcune difficoltà. À l'enseignante, iljeun konkret. Oliver V. D'Adulla. Gli studenti affrontano alcune sic Mattia. Gli studenti affrontano alcune difficoltà.